cari amiche e cari amici benvenuti in questo video che si apre con documenti originali, in questo caso vi mostro la lettera che il senatore Vincenzo Manca indirizza al presidente della commissione stragi, il senatore Giovanni Pellegrino, chiedendo di far pervenire al giudice priore dei quesiti riferiti alla strage di Ustica. Ora scurriamo il testo della lettera, se volete leggerlo fate dei fermi immagini. E arriviamo al primo quesito, le ultime perizie d'ufficio di parte civile annesse alla sentenza ordinanza rese note dietro richiesta della presidenza a questa commissione soltanto dopo la deposizione della medesima. Quali elementi nuovi apportano rispetto alle perizie precedenti? Le ultime perizie intende? Consolidano o meno gli elementi di certezza relativi all'ipotesi decreduto del velivolo già emersi dalle perizie precedenti? Perché sono state richieste a tecniche d'ufficio e di parte civile che già si erano dimostrati specificamente orientati a favore dell'ipotesi della battaglia aerea? Non sarebbe stato meglio, in termini di attendibilità dei risultati, rivolgersi ad altri tecnici scevri qualsiasi voglia preconcetto o difesa di ipotesi già sostenute, la cui indagine sarebbe di certo durata più lungo, ma, considerato anche il ventennio di indagini trascorse, avrebbe certamente garantito un più elevato livello di obiettività e di attendibilità. In particolare, tenuto conto dell'insieme delle perizie innumerevoli in vero, disposte nel tempo dall'autorità giudiziaria e da ella stessa, quale è stato il motivo per doverne disporre di ulteriori e conclusive, oltre il termine ex legge dell'azione inquirente? Qui cominciano a sollevare dubbi su tutta l'inchiesta svolta da priori prima che iniziassero i processi. Attenzione, la letta è infatti datata del 2000, inizio 2000. Quesito numero 2. Nella lunghissima sentenza ordinanza non appaiono chiari tutti gli elementi di tempo e di spazio, nonché il ruolo sostenuto da ciascuna delle tracce radar considerate valide, indipendentemente dalla nazionalità dei protagonisti della, tra virgolette, battaglia aerea. Né si evince quale possa eventualmente essere stato lo svolgimento di detta battaglia, ipotizzata in collegamento alle suddette tracce. In considerazione del fatto unanimemente convenuto dell'esclusione pressoché certa che la causa dell'abbattimento dei Cinovitavia possa essere stata un missile, o della derivata ipotesi che lo stesso possa essere precipitato per effetto di una near collision, può darci qualche elemento più puntuale circa lo svolgimento della città da battaglia di cui nessun radar della catena NEG ha avuto sentore. Tenuto peraltro in considerazione il fatto che nessun velivolo al mondo, per quanto è dato di conoscere, risulta finora precipitato per effetto di una near collision, altrimenti questa commissione vorrebbe essere messa a conoscenza dei dati occorsi. Come giustificano i periti che proprio litigi dell'Italia sia in corso in questa traumatica circostanza? Domande scottanti, andiamo alla terza. In relazione alla vicenda del MIG-23, perché nelle sentenze ordinanza non vengono citati gli atti conclusivi emanati dalla magistratura giudicante di Crotone che, con dovizia di chiare e precise argomentazioni, fissano la data della morte del pilota del caccia bombardiere al 18 luglio 1980 e rivolgono pesantissime censure all'operato e alle dichiarazioni rilasciate dai periti professori Rondanelli e Zurlo dopo aver depositato la loro relazione peritali. Mi ricordo che dell'argomento riguardo l'autopsia c'è un video in cui mostro tutta la parte del dispositivo della sentenza del giudice del Tribunale di Crotone. Quarto quesito. Ella esprime il convincimento, sia pure non provato, che il livello nazionale o nato superiore a quella di capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare sia stato consapevole o comunque coinvolto nei supposti depistaggi su Ustica. A parte il fatto che non esisteva un livello nato superiore a quello di capo di Stato Maggiore di Forza Armata Italiana, così nel 1980, mentre ora tale livello è identificato nella carica del capo di Stato Maggiore della difesa, un riferimento al livello superiore nazionale non può intendersi configurabile che in quello governativo. Come spiega allora l'accusa rivolta ai generali dell'Aeronautica di aver impedito al governo lo svolgimento delle sue attribuzioni, se lo stesso governo risultava l'emanatore di un ordine cui i militari avrebbero obbedito? Può spiegare questa contraddizione? Quesito numero 5. Qui vediamo che scrive sempre sentenza ordinanza, ma tecnicamente si deve parlare di ordinanza. Questo verrà sempre ripetuto, quindi non sto a correggerlo, lasciamo sentenza ordinanza, ma sappiamo che è ordinanza quella della quale stiamo parlando. Nella sentenza ordinanza si afferma che la commissione Misiti si è spaccata nelle conclusioni, mentre viceversa gli 11 membri della medesima hanno sottoscritto che la causa più probabile della caduta del 19 ITG dell'Itavia è da attribuire ad esplosione interna. Come spiega questa sua affermazione? E qui mettono il dito nella piaga, perché di fatto Priore completamente disattende i risultati della commissione unanime sulla attribuzione all'esplosione interna. Qui ci sono un po' di quesiti che appaiono nelle varie fake news che circolano sul web. Quesito numero 6. Non vi dico quanti sono. Le risposte alle erogatorie internazionali, rivolte reiteratamente ai vari paesi europei alleati e agli Stati Uniti, sono state ritenute tardive e insoddisfacenti per la volontà dei relativi governi di mantenere celate le loro responsabilità in ordine alla caduta del 19. Cioè qui si sta parlando della favola degli aerei americani, francesi, di cui partite la porta aerei che diceva il Sandlin, che in realtà la porta aerei era ferma e non era proprio in mare ma in porto a Napoli. Questo livello di insoddisfazione potrebbe anche derivare dalle oggettiva difficoltà di reperire a notevole distanze di tempo dal disastro elementi utili soprattutto dopo aver dichiarato subito e drasticamente di non aver alcuna responsabilità diretta o indiretta nel medesimo. Ritiene nel merito che si possa rilevare un'aggettiva responsabilità della magistratura italiana nel non aver posto in essere tempestivamente dette erogatorie. Queste cose andranno molti anni dopo, inizieranno molti anni dopo la caduta del 19. Diciamo che il via lo dà quella disgraziata affermazione di Rondanelli e Zurlo di cui abbiamo visto al quesito numero 3, che dissero alla stampa che avevano presentato una nota aggiuntiva al loro referto dove dicevano che il pilota poteva essere morto ai primi di luglio. e da qui poi nasce tutta la storia, la favola del duello aereo e via dicendo. Quesito numero 7 Dalla sentenza ordinanza si evince, senza ombra di dubbio, che lo Stato Maggiore Aeronautica di una consistente parte dell'Aeronautica, lo Stato Maggiore Rettito, lo Stato Maggiore Marina l'arma di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Sismi, SISD e il Gabinetto del Ministro dell'Affesa hanno tutti operato fino ai massimi livelli come una consorteria finalizzata a coprire la verità cioè di un'associazione delinquere in poche parole. Se tutto ciò risultasse rispondente al vero, cioè se tutto quello che abbiamo appena detto cioè che fanno parte di un'associazione, consorteria finalizzata a coprire la verità se tutto ciò risultasse vero, si chiede perché solo i vertici dell'Aeronautica Militare sono stati prima indiziati e quindi incriminati, perché in particolare i vertici dell'arma dei Carabinieri del Sismi, che pur dovevano, secondo le sue conclusioni, si riferisce a Priore aver concorso a questa omertosa congiura, non sono stati neppure indiziati. Se un disegno omertoso e depistante di tali proporzioni, che vedeva coinvolti i gangli sensibilissimi delle istituzioni, poteva essere posto in essere per coprire una sciocca quanto incomprensibile fedeltà dell'Aeronautica la Nato, non avrebbe dovuto avere piuttosto e più verosimilmente una regia a livello politico, che avrebbe potuto necessariamente coinvolgere le massime cariche dello Stato e non pochi ministri della Repubblica? Se i vertici dell'Aeronautica, oggi rinviati a giunizio per attentato contro gli organi costituzionali, avessero ricevuto dal livello politico direttivi di tal tipo, perché oggi dovrebbero tacerli, visto che sull'ara sacrificale sono rimasti solo loro? Ottavo quesito, qui stiamo andando giù piatti, da una prima lettura della sentenza ordinanza non pare emergere una sola specifica prova di atteggiamenti criminali da parte dei soggetti inquisiti o semplicemente ascoltati, emergono piuttosto vuoti di memoria, contraddizioni in dichiarazioni rilasciate a distanza di anni dai fatti, a volte stupidità e tentennamenti. Si chiede quindi, non ritieni che la magistratura, l'unica che non viene mai chiamata in causa e che rimane stranea da ogni responsabilità, abbia invece avuto pesanti responsabilità, non ponendo in essere con la necessaria immediatezza tutti gli atti dovuti, atti che si sono esauriti, per quanto ottieni alle sole attività istruttorie, soltanto dopo ben 19 anni e qualche mese dalla tragedia? Quesito numero 9 Sempre da una prima lettura della sentenza ordinanza, in ordine alle oggettività e consistenza dei fatti e delle situazioni direttamente o indirettamente connesse con il disastro di Ustic, non ritiene che sia stato sistematicamente concesso il primo piano più alle deduzioni costruite sui ma, sui forse, sui non ricordo e in particolare sulle registrazioni delle comunicazioni telefoniche tra gli operatori della difesa aerea e del controllo del traffico aereo, relegando in secondo piano, per usare un eufemismo, i risultati ben più concreti e provati dell'analisi peritali d'ufficio dalla stessa disposta raccolta. Si sta riferendo a quelle conversazioni avvenute poco dopo l'incidente che sono state poi diffuse e commentate in televisione facendo credere che c'erano aerei quando invece semplicemente gli operatori, gli addetti che parlavano fra di loro si confrontavano sul cercare di capire che cosa stava succedendo, che cosa era successo, quindi dalle domande sono passate alle realtà e invece erano soltanto delle domande, dei confronti che si facevano tra operatori, tra l'altro erano anche di grado elevato. Decimo quesito. La sentenza ordinanza indica fra gli elementi da tenere comunque presenti ai fini di una valutazione generale dei fatti, quelli relativi alle brillanti carriere e ai trasferimenti per premio della quasi totalità dei coinvolti. La gravissima illazione ipotizza i provvedimenti compensativi per atti illeciti che presuppongono la corretà di chi precedeva all'adozione dei provvedimenti stessi. Poiché la sanzione della maggior parte dei provvedimenti citati costituisce competenza del Ministro della Difesa, quando non del Governo, si chiede se siano state sentite le autorità politiche interessate. In caso affermativo, a quale titolo? questo è un aspetto poco noto. Posso dire in merito che alcuni dei piloti in volo quel giorno, quella sera, ebbero poi il trasferimento alla pattuglia acrobatica e questo poteva rientrare nell'oggetto del quesito numero 10. Undicesimo quesito. Le perizie d'ufficio e le consulenze delle parti civili, trasmesse a questa Commissione su richiesta della Presidenza e depositate dopo che i pubblici ministeri avevano depositato la loro requisitoria, rappresentano per la sua decisione dei solidi punti di riferimento, visto che più volte lei, senza mezzi termini, scrive che le argomentazioni svolte in queste relazioni appaiono convincenti, penetranti e più dettagliate di tutte quante le considerazioni svolte dai periti o dai consulenti nelle relazioni predisposte prima di queste ultime. Ora, a parte che la Commissione ha potuto esaminare queste relazioni soltanto perché la Presidenza le ha richieste e soltanto quando già il suo provvedimento era stato depositato, a voler tralasciare qualsiasi sterile polemica sul punto, tenuto conto di quanto detto in prima battuta e cioè che le conclusioni alle quali lei è pervenuto si basano essenzialmente proprio su queste ultime perizie consulenze, la domanda che viene spontanea a porle è cosa dicono di nuovo queste perizie? Ma ancora, mi consenta, l'altra domanda che non le si può non fare è cosa e cioè quali sono gli elementi che queste ultime perizie hanno potuto prendere in considerazione per giungere alle conclusioni che oggi tutti conosciamo? In altre parole, nel predisporre le ultime perizie o consulenze, gli esperti hanno avuto la possibilità di utilizzare elementi o meglio dati tecnici nuovi che prima non erano disponibili oppure le ultime perizie o consulenze propongono una nuova lettura di dati da sempre disponibili. Peraltro, se la risposta fosse che le ultime perizie o consulenze non hanno fatto che prospettare una nuova e diversa lettura di dati vecchi, può chiarire come è possibile che a questa lettura si sia giunti soltanto 19 anni dopo l'incidente e comunque soltanto da ultimo. Inoltre, visto che queste ultime perizie o consulenze prospettano tesi del tutto o anche in parte nuove rispetto a quelle perorate dalle molteplici perizie e consulenze che sono stati eseguite negli ultimi lustri, viene da chiedersi come possa lei, che è sempre stato così attento e scrupoloso, non aver disposto degli approfondimenti, delle indagini specifiche e cioè delle ulteriori perizie volte a stabilire se quanto sostenuto dai periti e dai consulenti nelle ultime perizie e consulenze sia scientificamente esatto, plausibile o anche soltanto possibile. E andiamo al quesito numero 12. Ci sono due punti che appaiono per alcuni versi incomprensibili Il primo attiene l'archiviazione per il delitto di strage Il secondo è la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione per la maggior parte degli imputati accusati di falsa testimonianza Ora per quanto concerne il primo di questi punti e cioè la richiesta di archiviazione per il delitto di strage, ciò che non è chiaro è come si possa da un lato dare per certo che vi sia stata una battaglia aerea e dall'altro ammettere che di questa battaglia non si potrà mai sapere né come si sia svolta esattamente né tantomeno chi vi abbia partecipato Peraltro lei sostiene che ci sarebbe stata una battaglia ma non precisa quali tracce debbano considerarsi utili al fine di stabilire quale ruolo abbiano avuto coloro che hanno partecipato a questa battaglia e poi soprattutto non spiega come sia possibile che nessuno dei radar della catena NEJ abbia registrato o visto questa battaglia Ma ancora come può condividere la tesi della quasi collisione se l'unico dato certo fino ad oggi è proprio che una quasi collisione che non ha mai non soltanto fatto precipitare un aereo ma neppure che ha causato danni gravi e riparabili tanto più che in questo caso la quasi collisione avrebbe disintegrato il 19 Tavia Per sostenere un'accusa grave, quale quella della quale si sta discutendo non basta la logica servono dati che abbiano un qualche riscontro sul piano scientifico e questi mancano Per quanto attiene poi, secondo degli aspetti e cioè la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione per la maggior parte degli imputati accusati di falsa testimonianza non è dato comprendere come possa un magistrato come lei non essersi reso conto che questi reati non sarebbero mai stati perseguiti se fosse maturata la prescrizione i reati sono stati commessi diranzi a lei e lei sapeva bene in quanto si sarebbero prescritti perché non ha fatto in modo che questo non accadesse com'è possibile che lei nella sua sentenza ordiranza attribuisce la responsabilità di quanto accaduto a tutti coloro che hanno mentito ai magistrati abbia deciso di mandare assolti la maggior parte dei colpevoli domande poste al giudice Priore questo è un secondo allegato potete fare un fermo immagine è la lettera in cui viene invitato il dottor Priore a rispondere ai quesiti detti prima e questa è la risposta che verrà data dal dottor Priore la rete è un fermo immagine su queste ultime parole con i più distinti saluti vi lascio e do appuntamento al prossimo video